Nel 2015 gli stranieri in provincia di Cremona sono diminuiti di 954 unità. La sorpresa che smentisce una lunga serie di allarmi su una presunta invasione appare nell'annuario statistico diffuso questa mattina dall'amministrazione provinciale che raccoglie e analizza i dati e gli indicatori statistici di tutti gli uffici dell'anagrafe dei 115 comuni del territorio. Gli immigrati che hanno preso residenza in provincia l'anno scorso sono stati poco più di 4.500 e quelli che al contrario l'hanno persa per andarsene altrove sono più di 5.500 considerando sempre solo i residenti. Saldo migratorio negativo quindi in coincidenza con il lieve calo della popolazione complessiva di soli 360.000 abitanti. Si conferma quindi una delle caratteristiche di fondo del territorio quella di essere una piattaforma logistica in un fitto movimento internazionale di persone e di merci. Gli immigrati a Cremona fanno tappa e poi ripartono ma per lo più non si fermano per proseguire il viaggio verso Milano e poi il nord Europa. È questa la vera nuova tendenza l'instabilità i cambiamenti sociali spiccano nel lungo periodo. Dopo mezzo secolo gli stranieri sono più di 40.000 oltre un decimo della popolazione e su 40.000 oltre 9.000 immigrati hanno un'età compresa tra gli 0 e i 14 anni. Invece quasi tutti gli anziani dai 65 anni in su sono italiani ben 83.000 rispetto a poco più di 1.000 immigrati con i capelli grigi. I residenti in età lavorativa fra i 14 e i 65 anni sono in gran parte ancora italiani 197.000 rispetto a 30.000 nuovi arrivati rilevante il numero degli ultra ottantenni ben 24.000 mentre gli ultra novantenni sono più di 4.000 in provincia. Per la statistica ci sono ben quattro anziani per ogni bambino in una popolazione che nei prossimi anni avrà ancora maggiore bisogno di assistenza. Sono ben 860 infatti le persone in lista di attesa per un posto letto nelle case di riposo della provincia di Cremona. Su questi dati statistici il comune come tutti gli enti locali e le istituzioni del territorio stanno riorganizzando il mondo dei servizi non minore del settore produttivo. Cremona è il simbolo della provincia poiché presenta il maggior numero sia di anziani che di bambini. Una città in buona parte di nonni e di nipoti. Altra caratteristica consolidata è la sparizione del matrimonio. Il numero dei celibi e delle nubili è salito a 150.000 persone mentre i coniugati sono soltanto 170.000 e i divorziati 9.000. A Cremona i matrimoni tra quelli civili e religiosi stanno scendendo sotto i 200 all'anno il minimo storico.